salve gente sono christopher green della rete emt televisione alternativa che colpisce forte in faccia siete scimmie sì è vero siete scimmie secondo gli scienziati sapete lo scientismo la religione degli atei siete scimmie sì non siete diversi dai macachi che derivano dalle scimmie è quello che ci raccontano infatti c'è una grande notizia sul new york post di oggi che parla del teschio di una scimmia che presumibilmente hanno trovato dove dicono che è da dove veniamo siamo tutti scimmie semplicemente delle scimmie ed inoltre la comunità scientifica dice che arriviamo dal nulla vero c'era un grumo appiccicoso qualcosa come un muco di fango non sanno da dove è arrivato senza vita semplicemente molliccio scivoloso che esploso a caso magicamente è uscito come una magia esploso creando questo vasto universo cellulare di pianeti stelle e di tutti questi ecosistemi particolari che sono completi progettato in modo indiscutibilmente intelligente giusto pensate solo alla pioggia come il processo che parte dal mare nel suo ciclo che va nell'aria riempie le nuvole cade a terra sulle cime dei monti forma ghiacciai erode la terra crea fiumi ruscelli sui quali si forma la vita la cosa interessante è che osservando alcune cose su internet cose che abbiamo perso giusto che non fanno parte dei media di proprietà aziendale che sono programmati dai vertici per ingannarci sulla reale verità non c'è stata una singola maledetta cospirazione sulla quale ho cercato che non sia diventata fatto come il pizzagate per esempio era un tabù è ovvio che non possono fare queste cose orribili ai bambini no un momento esattamente quello che jeffrey epstein ha fatto infatti alcune notizie sono uscite oggi in perù dove scavando su corpi morti di bambini centinaia e centinaia di corpi di bambini dove antiche civiltà li hanno sacrificati agli dèi sembrano stesse identiche cose che stanno facendo oggi queste società segrete occulte il boschetto boemo gli illuminati come richiamano alcune persone stanno ancora oggi sacrificando bambini queste erano le accuse e parte delle prime condanne della saga su epstein e se fate le vostre ricerche saprete anche che ancora vivo ma tornando agli scienziati questo grumo esploso creando questo universo intelligente non pensano che è intelligente ma è arrivato dal nulla infatti è un vero miracolo come se in natura un tornado ruota attraverso una foresta e poi crea un'automobile giusto un tornado in nulla sfrenato senza consapevolezza solo a caso proprio a caso gerando sopra una presunta palla che è il pianeta anche se molte persone pensano che è piana perché sanno che è piatta la terra arriva in un momento e all'improvviso a creare l'intricato ed intelligente progetto di creare cose come le celle anche se le guardate attraverso il microscopio vedrete che i movimenti di una cella si svolgono in modi differenti le proteine sintetizzano i mitocondri tutti questi differenti elementi delle celle centinaia e centinaia di differenti elementi protoni e neutroni si muovono attorno e se non si muovessero attorno in una forma specifica la vita non esisterebbe assolutamente quindi l'esempio del tornado che gerando attorno assembla un boeing 747 a casaccio nel mezzo di una foresta pazzesco per quanto sembri in realtà è quello che vendono a tutte le persone il più grande e discompetibilmente la maggiore copertura della storia mondiale dice che siete scimmie perché un uomo uno scienziato che seguiva lo scientismo dal nome charles darwin quale era anche un massone ha detto questo ma non ha mai spiegato tutte quelle falle mancanti voglio farvi un esempio se ci siamo evoluti da diciamo dal grumo e siamo poi diventati pesci come ha fatto il pesce in seguito a sviluppare ali come ha fatto il pesce diventare rana anche nel giro di milioni e milioni di anni com'è che non ci sono fossili del periodo in mezzo fra pesce e rana non dovrebbero esserci fossili fra pesce e rana qualche modo dovremmo trovare milioni e milioni di questi nei sedimenti della terra del periodo transitorio trans ho parlato ieri di questo del periodo transitorio fra pesce e rana o pesce pipistrello come hanno sviluppato ali dove sono i fossili perché non ci sono fossili inoltre ieri ho notato nil degrasse tyson so questo da tempo era in tv che sminuiva i terrapiattisti dove ha proposto ha detto che quanto ha trovato la scienza che la terra in realtà non è una sfera sì è vero ha detto che non è una sfera ma è molto simile alla forma di una pera non è una sfera è oblata ufficialmente è uno sferoide oblato diciamo così ma non solo questo è leggermente più larga sotto l'equatore che sopra l'equatore cicciutella cicciutella è un esempio la forma di una pera giusto sapete com'è una pera avrei dovuto portarne una è una pera ha detto questo è lo scienziato giusto che ridicolizza i terrapianisti bene la terra come c'è detto una sfera adesso è una pera allora come mai tutte le immagini false ritoccate con photoshop della nasa che presumibilmente ci mostrate da lontano spazio o luoghi come la luna sembrano essere sfere ma non pere la nasa dovrebbe mostrarci immagini di pere non lo fanno sapete queste in realtà sono assolutamente false volete sapere l'ultima si suppone che la nasa e gli scienziati stanno cercando di costruire un ascensore spaziale per la luna non sto scherzando non sono mai tornati da la 50 60 anni fa ma costruiranno un ascensore spaziale non solo questo vanno su marte non hanno curato il cancro e sappiamo che non è vero perché in realtà hanno le cure ma non vogliono che lo sappiamo si chiama controllo della popolazione e non hanno risolto la calvizie maschile jeff bezos è calvo come un uovo calvo come una palla da biliardo ma vanno su marte infatti ci sono dissidi fra elon musk e già ma che hanno trasmesso oggi ed è diventata virale su internet ilon sembrava molto depresso ancora una volta ha parlato di come ya sta prendendo sopravvento e se non si riesce a batterla unirà il marchio della bestia vi darà un microchip collegato alla sua compagnia neurolink con la quale collegherà la vostra mente ci sono un sacco di cose interessanti voglio dire un sacco di eventi inspiegabili cose che non hanno alcun senso ancora è possibile che ci abbiano mentito per tutta la nostra vita dove tutto è menzogna comprese le verità di base di come funziona la terra voglio farvi un altro esempio non è che a scuola vi hanno insegnato per programmarvi e farvi il lavaggio di cervello appena uscite dal ventre di vostra madre il reparto che crea già il sistema scolastico per raccontarvi un sacco di strati differenti del pianeta terra dicono che è una sfera si presume dicono che ci sono molteplici strati come il mantello e poi diversi strati del pianeta fino a quello che chiamiamo il nucleo di magma giusto giusto è come un vulcano al centro di un rosso bollente quello che crea i poli il magnetismo del polo sud e del polo nord come sanno questo perché non hanno mai scavato oltre 12 chilometri dentro la terra è un fatto in realtà solo supposizioni nessuno è andato nel nucleo della terra e nessuno è mai andato oltre i 12 chilometri come possono sapere cosa c'è dentro il pianeta stesso quello quello che so perché nuovamente probabilmente lo sapete anche voi come pensatori critici quello che vedo con i miei occhi è un incredibile meraviglioso fantastico disegno intelligente che sia o meno un meraviglioso disegno intelligente dell'umana consapevolezza pensiero ed autocoscienza o meraviglioso disegno e consapevolezza della natura stessa infatti le cose se non fossero un disegno così perfetto ed intricate nel modo in cui sono ora non ci sarebbe vita ma il punto non è questo quello delle religioni secolari delle ideologie che hanno costruito il darwinismo l'evoluzione e molti altri argomenti e non vi lasciano nemmeno la possibilità di parlare in modo comune quello che ci vendono è questo siamo apparsi dal nulla non siete niente siete completamente insignificanti siete della melma che è esplosa una scimmia nel vasto universo infinito senza fine che girate su una dannata palla leggermente inclinata con stelle infinite e altri pianeti e cose che nessuno ha mai visto prima perché in realtà nessuno è mai stato là infatti tutti i ricercatori indipendenti che hanno inviato palloni satellitari lassù nel cielo mostrano cosa orizzonti piatti in realtà l'orizzonte si alza a livello degli occhi non c'è bisogno di guardare in giù perché le rotaie del treno durante la costruzione non tengono conto i progetti degli ingegneri non tengono conto della presunta curvatura della terra se costruite un ponte lungo chilometri e chilometri diciamo in key florida non dovrebbe tenere conto della presunta sfericità della terra perché gli aerei durante il volo che vanno avanti indietro sopra le nazioni non tengono anche loro conto dell'azione del volo del cambiamento di altitudine vista la curvatura della terra se la terra si presume a curvatura l'aereo non dovrebbe abbassare il naso in basso ogni tot di chilometri mentre vola per compensarla se la terra presumibilmente ruota migliaia più chilometri all'ora ed un normale boeing 747 vola 800 chilometri orari non dovrebbe la terra girare più veloce dell'aereo ed eventualmente arrivare dietro diciamo se l'aereo vola verso est sapete quando si inizia a farsi queste domande fondamentali si inizia a capire che molti di quegli argomenti di cui ho appena parlato e credetemi ce ne sono tanti altri fanno parte delle campagne di disinformazione volete sapere quella più grande campagna di disinformazione la fraternal society è l'opposizione controllata dallo stato profondo per far sì che le persone arrivino a considerare queste indagini scientifiche come insane infatti barack obama è interessante perché se fosse solo una cospirazione non dovrebbe pensarci non so perché la menziona basterebbe ignorarla ma non ho molta pazienza per tutti coloro che negano che questa sfida sia vera non abbiamo tempo per un incontro con la frater society il presidente obama durante la sua presidenza ha parlato della terra piana molte molte volte ha detto cose come non serve discutere non c'è bisogno di dibattiti con i terrapiattisti o della frater society come vedete ve lo dice chiaramente in faccia che è una gigantesca copertura come ho già detto prima in questo video non c'è una singola indagine cospirativa che abbia fatto nella mia intera vita che non sia diventata vera quindi supporre di prendere le parole della nasa per questo voglio dire una cosa che la nasa ha fatto un lavoro veramente eccellente nel raccogliere miliardi e miliardi di dollari dai contribuenti che sono schiavi e tutto quello che abbiamo è un presunto atterraggio sulla luna e non siamo mai più tornati là ma colonizzeranno marte questo è quello che dicono quindi viviamo in questo mondo dove ia sta prendendo il sopravvento ma voglio solo dirvi indagate su questa cosa gente non vi sto dicendo di credermi sto dicendovi di non credere alla nasa vi racconto di pensare in modo critico quanto nella vostra vita nella realtà corrente avete dato per scontato non lo so non capisco questo paradigma matematico non comprendo quei progetti di ingegneria perciò non devo pensarci e neanche ci provo c'è qualcun altro che capisce questo tipo di cose è come il codice delle tasse oggigiorno è talmente complicato che arriva a certi punti dove dico non lo so alzo le mani ci sono professionisti che fanno questo tipo di cose la gentia delle tasse non mi farà pagare di più o simile vedete ha perfettamente senso la confusione è l'alleato dello stato profondo ecco perché vogliono le menti dei vostri figli molto presto vogliono fare il lavaggio del cervello prima possibile ecco perché la scuola pubblica è libera ed una delle prime cose che ai vostri bimbi o studenti quello che viene insegnato ai pargoli è la presunta sfericità della terra nuovamente Neil deGrasse Tyson ha detto che è come una pera è più grande in basso come una grande grassa pera ha detto questo perché non ci sono immagini da vedere dalla nasa con la forma di pera e tutto quello che fanno anziché avere un dibattito intellettuale scientifico con con pensiero critico tutto quello che fanno è da ridere e lanciare le loro proprie campagne di disinformazione e si lodano per le autorità ma se l'autorità è sbagliata che succede se il loro programma serve solo per controllarci per farvi credere che siete insignificanti che non c'è assolutamente nulla là fuori siete solo voi a caso su questo muco fangoso e quelle transizioni dove non ci sono i fossili dalla melma al pesce nel mare dalle branchie agli scimpanze questa è la cosa più ridicola e idiota la teoria che abbia mai sentito in tutta la mia vita guardate i dinosauri ci raccontano qualcosa di diverso ogni singolo giorno come sono arrivati qui quando se ne sono andati quando sono istinti non sanno come è stato prima poi è arrivata la cometa non conoscono nulla come Pluto che non è più un pianeta anche se hanno detto che era un pianeta non molto tempo fa loro non conoscono assolutamente niente hanno estupidito intere popolazioni ad un livello tale che non sanno più pensare da soli non pensano con chiarezza e non comprendono veramente la loro attuale realtà nuovamente non sto dicendo che so tutto perché di certo non so ma vi sto chiedendo di pensare in modo critico vi chiedo di pensare da soli il mondo è una sfera è un globo sentite se vi state muovendo su questo pianeta perché io no mi sembra molto stazionaria quando osservo l'orizzonte appare piatto infatti in realtà pensavano che il mondo era piatto migliaia di anni prima che arrivassero con la teoria che fosse una sfera forse piatto forse no forse questo è un truman show e tutti noi viviamo sotto una cupola molte civiltà antiche pensavano semplicemente questo e non solo queste antiche civiltà hanno sacrificato migliaia e milioni di bambini agli dèi succede ancora qui negli stati uniti d'america sotto l'autorità delle società segrete che governano veramente il mondo jeffrey epstein è solo un esempio un pedofilo condannato che è scappato quanti ancora di questi bastardi stanno girando liberi nella città di washington e dentro le città e nelle nazioni ovunque sulla terra piana sono christopher green fate girare il video ovunque fatelo virale e colpite forte sulle vostre facce cliccate il link sotto per supportarci per i vostri approfondimenti le vostre libere ricerche a disposizione attraverso il sito www.tinelli.eu avete il preziosissimo indice alfabetico con migliaia e migliaia di video oltre alle indispensabili playlist suddivise per argomenti non dimenticate il libro il risveglio a colori nel formato ebook mentre nella versione cartacea è in bianco e nero